è buono sto pane si l'ho comprato oggi senti c'è quest'altro prova vedi io lo trovo veramente prova sta nel cassetto vabbè comunque da tagliare la cesta te lascio un pezzo vale ore ma che cazzo fai te ma che cazzo stanno visto cazzo come cazzo ti permetti te come cazzo ti permetti non ti fai schifo cazzo levati come cazzo schifo che che fa schifo vandi le tredici anni a fare le puttane è questo quello che fai è questo quello che fai da un mese stai zitta stai zitta stai zitta con la tua bocca crema cazzo cazzo sei un po cazzo cazzo sei un po cazzo 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 sei un po cazzo vai sei scendito sei sei un pezzo di merda che guardi il telefono mio tu sei un pezzo di merda un pezzo di merda adesso eh? Sì! Sì! Ferma questa cosa! Ferma su queste mani! Ferma! Non ti fai schifo! Non ti fai schifo eh? E perché mi devo fare schifo? Perché mi faccio schifo? Dimmi! Eh? Non capisci un cazzo, non capisci te! Non capisci manco perché lo faccio! Hai capito? Fanculo! Perché mi lasci i soldi nel cassettone? Perché lo fai? Perché lo sai che mi prendo! Lo sai che mi servo a te! Sì che lo sai che li prendi! Te li prendi! Te li prendi! E perché te li prendi te? Perché te li prendi? Perché mi sei! E brava! Perché mi sei! E allora? Cazzo! Sei schifo! Ma mo ti faccio schifo eh? Mo ti faccio schifo eh? Ti faccio schifo io! Ma si eh! Ma io! Non mi vengo a leggere un messaggio al telefono tu hai capito? Cazzo eh! Ma che fa la fanta del cazzo fai! Ma che pensi di essere perfetta te? Eh? Ma che sei perfetta te! Che cazzo voglio dire? Che cazzo voglio dire? Eh? Che pensi che non mi ricordo le riviste che c'avevi te eh? I cazzi verdi, i cazzi neri! Che cazzo significa? Quelle che masticavano i cazzi eh! Che cazzo significa? Che cazzo significa? Che cazzo! Che cazzo! Punto! Come le cose che te stai diamo! Cazzo! Quanto le vedi la ragazzina? No! A quundici mila quanto le vedi? Ma che cazzo stai a dire? A quanto le vedi? Mi sa più per il culo? Né! A quanto le vedi? Sei veramente la stronza sei! Quanto ci serve una ragazzina a casa che ti fa i bocchini quanti no? Vaffanculo!